Allora, sta qui con noi per premiare questi, questa è la categoria premio, è l'ultima categoria di questo premio. Allora, il terzo classificato in questa categoria premio viene dalla Russia. Il terzo classificato in questa categoria viene dalla Russia e il suo nome è Aleksandr Kolomiticev. Il suo nome è qui in sala, vorrei invitare il suo premio, così può ricevere il suo premio. E lui vince il trofeo artistico e anche il suo premio. E anche la borsa di studio è di 500 euro. E anche la prossima persona, forse sarà in sala. Il secondo classificato in questa categoria viene dalla Ucraina. Coming from the Ukraine, the second prize winner is Ivan Bikov. Anche Ivan vince il trofeo artistico e la borsa di studio di 1000 euro. He wins 1000 euro scholarship and also the trophy. E allora, vince questa categoria, categoria premio. Siamo pronti? Is everyone ready? Forse vi dico prima che cosa vince il vincitore, no? Perché è più carino così. It's nicer if I tell you what they win. Al vincitore vince il trofeo artistico e questi trofei sono stati rilanzati da Renzo Romagnoli. These wonderful trophies have been made by Renzo Romagnoli. The winner also wins a scholarship of 2000 euro. Vince una borsa di studio di 2000 euro, non è poco. E al vincitore anche alcuni premi speciali, per cui invito anche a raggiungerci le seguenti persone. Andrea Ballone Burini, per il premio speciale Ballone Burini, che consiste in un buono acquisto per uno strumento pari al 80%. Eccolo, Andrea, buonasera. And this is a special Ballone Burini prize, which is a wonderful gift voucher for an instrument up to the value of 80% of the value of the instrument. A pretty amazing prize. Then, I'd like to also invite back onto stage Harley Jones, vorrei invitare di nuovo sul palco Harley Jones, per il premio speciale Accordions Worldwide, consistente in un sito web pubblicitario per un anno. So Accordions Worldwide will offer a website for one whole year in order to help the winner advertise their skills. Harley Jones, thanks for joining us again. Grazie. Andrea Crucianelli, per il premio speciale Memorie di Piero Crucianelli, consistente in una borsa di studio di 300 euro. I'd like to invite onto the stage Andrea Crucianelli, for the special prize in memory of Piero Crucianelli, which is a scholarship of 300 euro. Buonasera. Ci siamo. We're ready. Ok. È il momento. Vince la categoria Premio, the winner of the Premio Category of the 39th edition of the Premio Internazionale di Fisarmonica di Castelfidardo, è dalla Cina, coming from China, Xia Nanqian. Il trofeo artistico di Renzo Romagnoli, è una borsa di studio di 2.000 euro. di Andrea Ballone Burini, il premio speciale Ballone Burini, un buon acquisto per uno strumento pari allo 100% del prezzo. Il premio speciale Accordions Worldwide, un sito pubblicitario per un anno. E alla fine, il premio speciale Memoria di Piero Crucianelli, una borsa di studio di 300 euro. E adesso, la vincitrice della 39esima edizione del PIF, Premio Internazionale di Fisarmonica, So now, for our listening pleasure, and your listening pleasure, the 39th edition of the PIF this year, we would like to welcome the winner onto the stage behind us, Xia Nanqian will play for us, a piece called Silhouetten, un pezzo che si chiama Silhouetten, di Jürgen Ganser, terzo movimento, e di Frank Angelis, and by Frank Angelis, another piece, Beijing, 2011, primo movimento. Allora, ascoltiamo la bravissima Xia Nanqian. E, Stephule, it's a car a person, a voglia. e di Fisarmonica, che si chiama Silhouetten, ancherika, il tremolo che si chiama Silhouetten, è un povere di Camera intense. E, Stephule, for our listening pleasure, I need to stopandom andare da oxygen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.